Via! Opera di Cristiano Emanuele Ranghetto L'inganno dell'occhio Finalista al concorso La Quadrata 2018 della Galleria d'Arte in Melograno a Livorno È un quadro double face, ossia che presenta una doppia visione Come potete vedere, il dipinto ruota su se stesso Facendo vedere, facendo notare Meglio, nel miglior modo, la sua doppia visione Voglio, nel miglior modo, la sua pub Sì, qui hanno chiuso